Quindi hanno una bassa richiesta di manutenzione rispetto agli intensivi che hanno invece richieste più importanti perché come vedete possono ospitare piante molto più grandi, addirittura alberi, si tratta di giardini pensi, di sospesi che effettivamente hanno richieste e cure almeno come quelle di giardini. Vi faccio vedere, qui ho mostrato una foto di un tetto comune a Prato, sono molto comuni questi tetti verdi a Prato in Germania, questo è sul tetto di un'università a Berlino, mentre invece questo qui è il tetto verde a Sedum, un'altra specie tipica nei tetti verdi estensivi del liceo scientifico Keplero di Roma, col quale poi abbiamo anche collaborato molto nell'ambito di attività di alternanza scuola-lavoro e col professor Casalini, è degno di nota anche il fatto che il tetto verde, loro in questa scuola hanno installato un tetto verde, anche una parete verde che venne anche premiata nel duemiladiciannove da un un award per Ecotech Green. Questo perché all'epoca cominciano ora a prendere piede ad essere più comuni, ma diciamo che sono ancora soluzioni non comunissime in Italia. Lo sono di più nel nord Italia, in particolare a Milano, infatti vediamo questo esempio bellissimo di tetto verde intensivo che è il giardino pensile terapeutico installato circa un paio di anni fa sotto la direttiva di Boeri ed è veramente un incanto oltre che maestoso. Ovviamente tra estensivo intensivo c'è una gradazione di grigi, tantissime sfumature perché vi sono tetti semi estensivi o semi intensivi in base appunto alla quantità e alla vegetazione cespui e così via. Quindi il tetto estensivo in genere ha prato e sedum. Allora per quanto invece riguarda le pareti verdi, le cosiddette green wall, la principale classificazione le suddivide in living wall e in green facade. Le living wall sono intanto aderenti completamente al muro, quindi è come se fosse un ulteriore strato di muro e le piante possono essere disposte in dei vasi appunto aderenti alla parete oppure in dei moduli, in dei substrati modulari oppure in tasche di feltro. Vi faccio vedere questo qui, il sistema modulare è un esempio di Peverelli col quale tra le altre cose stiamo iniziando a collaborare nell'ambito di un nuovo progetto perché vogliono realizzare una parete verde sempre a Milano e studiare e dare degli indicatori precisi di di consumi di consumare, eccetera. Questa è la parete verde del Keplero. Scusate, gli altri dovrebbero chiudere il microfono. Grazie, scusatemi. Questa è la parete verde del Keplero che è costituita da un fascio in cui vi sono appunto delle tasche all'interno del substrato e le piante che crescono lì. Cioè da considerare che queste living wall, se noi le visualizziamo in sezione, dobbiamo immaginare che abbiamo la parete, una serie di strati, teli e tessuti, un suolo e poi esternamente le piante. Diversamente le green facade, che sono quelle di sotto, sono rispetto alla parete, sono costituite da uno strato di piante perché abbiamo o una green facade diretta, aspetta che non riesco, ecco, green facade diretta perché sono delle specie magari rampicanti o discendenti direttamente che crescono sulla superficie della parete oppure abbiamo in diretta quando la crescita di queste piante è accompagnata appunto da un traliccio, da una grata metallica come nel caso della parete verde che abbiamo fatto installare all'Enea che appunto ha una green facade indiretta e poi abbiamo una green facade indiretta nel quale tra la vegetazione e la parete muraria addirittura è possibile sia un percorso, cioè uno spazio di transizione che può essere sfruttato insomma. Ok, noi abbiamo, l'attività Enea essenzialmente è stata il prodotto della ricerca di sistema elettrico finanziato dal Ministero, inizialmente dal Ministero dello Sviluppo Economico, più recentemente dal MITE. Abbiamo iniziato a lavorare in questo dal 2013 con le prime attività a partire da Carlo Alberto che ha voluto fortemente la ricerca in queste tematiche e al momento considerate che stiamo sviluppando la programmazione 2022-2024, quindi dal 2013 ad oggi con pochi anni in cui non siamo stati finanziati per motivi di ministero insomma, in cui ci sono stati dei blocchi di due o tre anni al massimo, la ricerca quindi su queste tematiche va avanti da allora ed è una ricerca che focalizza moltissimo sul conseguimento del risparmio energetico, ma anche dei benefici ambientali che queste infrastrutture consentono di avere. Allora, presso l'edificio, la casetta verde di Casaccia, che coloro che sono in Casaccia conoscono, avranno avuto modo di vedere, abbiamo installato un tetto verde e una parete verde. A sinistra il tetto verde, che è un tetto verde di tipo estensivo ed è costituito da diversi settori in cui abbiamo allocato delle vegetazioni diverse per consentirne degli studi diversi. Principalmente abbiamo una sezione a Prato, una sezione dedicata alla sperimentazione con il Sedum ed un altro settore che invece è dedicato alle sperimentazioni per la biodiversità con specie di vario tipo locali. Invece la parete verde dello stesso edificio presenta una facciata sud-ovest e una facciata sud-est. Abbiamo un totale di 90, quasi 100 metri quadri la somma di entrambe le pareti, la copertura da parte della somma di entrambe le pareti, insomma. E le pareti accolgono diverse specie vegetali, spesso comunemente trovate in questo tipo di struttura, ma che sono state selezionate a monte dopo un'appurata ricerca bibliografica e prove sperimentali su vaso che sono state precedentemente realizzate. Per cui abbiamo piante comuni come edera, vite, gelsomino, la vite canadese e così via. Allora, se questo si potesse levare, ecco l'ho tolto. La stratigrafia del tetto verde. Allora, la stratigrafia di un tetto verde è definita dalla normativa di cui vi parlavo sopra e diciamo che in generale un tetto verde richiede una stratigrafia minima che è composta a partire dall'astrico solare, quindi dalla zona del tetto che fa parte dell'edificio andando verso il contatto con l'aria. è costituita da diversi strati, abbiamo innanzitutto uno strato impermeabilizzato che debba essere di alta qualità, insomma il livello di strato impermeabilizzante è veramente fondamentale. Poi vi deve essere un sistema antiradice, al di sopra di questo, che deve impedire appunto che le radici si sviluppino ulteriormente nella profondità dell'edificio. vi è a seguito un sistema di drenaggio che spesso è costituito da materiali ghiaiosi nei casi più semplici, segue un tessuto filtrante per evitare che le particelle di suolo sovrastanti vadano a finire al di sotto ed infine vi è il substrato per la crescita delle piante e l'ultimo strato che è la vegetazione. Questa è la struttura minima e in realtà all'Enea abbiamo una struttura simile considerando che appunto venne installato nel 2015. L'installazione del tetto verde è avvenuta nel 2015. tutta la casetta delle energie, l'edificio verde prototipo, non la chiamiamo anche scuola delle energie perché vi facciamo dei corsi sull'efficienza energetica e su queste infrastrutture verdi, è praticamente dotato di un sistema di monitoraggio, un sistema di monitoraggio di tipo ambientale e di tipo energetico. Ampissimo sia a livello del tetto che a livello di ambedue le pareti, al primo piano, al secondo piano e anche a livello della serra bioclimatica di cui poi dopo avrò modo spero di parlarvi un attimo e il monitoraggio dei parametri microclimatici include la temperatura e l'umidità relativa con globo termometro, la radiazione globale, la radiazione fotosinteticamente attiva, il vento quindi sia a velocità che direzione con anemometri. Poi abbiamo il monitoraggio delle temperature superficiali, parietali, quindi a livello della parete, queste le abbiamo utilizzate per studiare i flussi termici, cioè le temperature superficiali noi le utilizziamo per lo studio dei flussi termici. Sia, e quindi questi praticamente vengono inserite sia sulla superficie esterna della parete che sulla superficie interna della parete per vedere questo flusso e poi vengono monitorati recentemente abbiamo anche preso, stiamo iniziando anche a lavorare con dei flussimetri direttamente e stiamo facendo la comparazione di questi due sistemi di misura. Poi monitoriamo la temperatura fogliare in alcuni settori del tetto, l'umidità del suolo in diverse localizzazioni, la temperatura superficiale sul tetto e inoltre parametri ambientali come l'anidride carbonica, l'ossigeno e i composti organici volatili, i Vitex in particolare di cui vi parlerò dopo. Quindi praticamente oserei definire l'edificio verde come una sorta di long term experiment che sta accumulando e misurando dati a partire dal 2015-2016, diciamo i dati più precisi intorno al 2016 e quindi stiamo, oltre al fatto che è sede della maggior parte delle nostre attività di ricerca, stiamo veramente cercando di mantenerlo in uno stato più adeguato e costante possibile, quindi anche con molta attenzione alla vegetazione proprio perché stiamo continuando a misurare e rappresenta un caso unico, unico a livello nazionale, ma in realtà come long term stati direi anche a livello internazionale. Ok, adesso praticamente per quanto riguarda la sperimentazione sugli aspetti più ambientali mi interessava parlarvi di queste tre tematiche, di queste tre linee di attività praticamente che sono il continuum suolo-pianta-atmosfera con l'evapotraspirazione delle piante, le proprietà radiative delle coltri vegetali e dell'albedo e la mitigazione dell'inquinamento dell'aria che viene operata dalle piante. Allora, questa è la prima parte. Diciamo che notoriamente il sistema suolo-pianta-atmosfera va considerato come un continuum e infatti dall'inglese SPAC, Soil Plant Atmosphere Continuum. Ogni punto di questo SPAC è caratterizzato da un preciso valore di potenziale idrico, Psi con water. Adesso la teoria veramente la riduco al minimo, ma spero nessuno si offenda se do qualche informazione giusto per ricontestualizzare il tutto, insomma. Diciamo che quindi nel suolo, tra il suolo, la pianta e l'atmosfera, quindi esiste questo potenziale idrico che è il potenziale che dà la spinta all'acqua di fluire. In genere l'acqua fluisce da una località ad alto potenziale ad una località a potenziale inferiore. Infatti andando a misurare i potenziali idrici nei diversi settori, nei diversi ambienti, vediamo che l'acqua dal suolo arriva alle radici e attraverso i vasi xilematici della pianta raggiunge le foglie dove viene espulsa, sotto forma di vapore e acqua, acqua nell'atmosfera. Ecco, tutto questo movimento dell'acqua avviene spinto dal gradiente di potenziale idrico e quindi si parte da un gradiente di potenziale idrico maggiore, il meno 0.3, a un gradiente di potenziale idrico più basso, meno 100 megapascal. Ok, l'evapotraspirazione che è una funzione fondamentale delle piante, per noi rappresenta una caratteristica veramente notevole per quanto riguarda tutti gli aspetti e benefici che le piante apportano in questi sistemi vegetali di tetti e pareti. L'evapotraspirazione è definita come somma tra evaporazione dell'acqua dal suolo all'atmosfera più la traspirazione. La traspirazione è proprio l'acqua che dagli stomi della pianta, quindi dagli stomi presenti nelle pagine inferiori delle foglie, arriva sotto forma sempre di vapore e acqua nell'atmosfera. Allora, l'evapotraspirazione, questo processo fondamentale delle piante, dipende da numerosi parametri, parametri che sono climatici e parametri più legati alla vegetazione e al suolo. Bene, noi abbiamo preso in considerazione la maggior parte di questi parametri da capire bene le influenze dell'uno con l'altro e di andare a monitorare l'evapotraspirazione in condizioni di interesse in base alla nostra ricerca. Quindi, tra i parametri climatici, la radiazione solare netta in entrata è il valore che maggiormente si corrella all'evapotraspirazione, ma poi ovviamente anche la velocità del vento, la temperatura e l'umidità dell'aria, le condizioni di nuvolosità del cielo e le precipitazioni influiscono senz'altro ovviamente sull'evapotraspirazione. Diciamo che poi l'influenza è una cosa, l'influenza sull'evapotraspirazione viene descritta in modo molto complesso dalle interazioni tra tutti questi parametri. Per quanto riguarda la vegetazione, ovviamente il livello di ombreggiatura della canopi, quindi dello strato vegetativo, è importante e favorisce o meno l'ombreggiatura, scusate, l'evapotraspirazione. Quindi quando c'è troppa ombreggiatura e quindi vuol dire che le piante ricevono una radiazione inferiore, ovviamente l'evapotraspirazione risulta un po' ridotta. Poi dipende dai genotipi, dal tipo di vegetazione e dalla fase di sviluppo. Un altro parametro fondamentale è il cosiddetto LAI, Leaf Area Index, che è una stima della densità di copertura. Come potete vedere da questa figurina in basso a destra, dà proprio un'idea di come questo indice ci dia una quantità di copertura, di densità di verde. Poi c'è l'apparato radicale, che ovviamente è anche lui determinante nell'influenza dell'evapotraspirazione e il contenuto idrico del suolo. Quindi soprattutto negli strati più superficiali a contatto con la pianta e con l'atmosfera. Quindi anche il soil water content sotto forma di soil moisture level o qualsiasi altro tipo di indicatore sono dei parametri fortemente correlati. Tutti questi parametri ovviamente sono anche influenzati dalla stagione, dalla posizione geografica e dalla posizione climatica. L'evapotraspirazione in Enela abbiamo studiata molto iniziando con la sperimentazione in serra bioclimatica che prima vi ho accennato. Senza andare nei dettagli di che cosa sia la serra bioclimatica, ma è stata pensata come spazio che riceveva una radiazione solare aggiuntiva e pertanto potesse essere utile per il mantenimento del comfort termico. Dalle simulazioni condotte in una ricerca durante i primi anni della ricerca di sistema purtroppo abbiamo notato che questa serra bioclimatica, la serra captante, non fosse così funzionale. pertanto più recentemente insieme soprattutto alla collega Patrizia De Rossi abbiamo pensato ma se andiamo ad inserire della vegetazione all'interno dello spazio serra bioclimatica forse potremmo fare in modo che la condizione in estate di questo ambiente possa migliorare perché probabilmente si potrebbe raffrescare la condizione termica dovuto all'effetto dell'evapotraspirazione delle piante. Quindi quello che noi abbiamo fatto è intanto abbiamo focalizzato su piante orticole. Il focus sulle piante orticole è stato dovuto a due motivazioni principali. Innanzitutto tutti i nostri studi sono sempre correlati, legati in qualche modo alle città, al benessere in città e questo vuol dire pertanto anche il sostenere la sostenibilità agricola e ambientale e quindi anche il chilometro zero. Pertanto è evidente che negli ultimi anni questo interesse per l'agricoltura domestica soprattutto a seguito del Covid si è aumentato fortemente, lo dice Coldiretti, in quanto sono aumentati di oltre il 70% le vendite di prodotti per fertilizzanti, suolo eccetera per la produzione domestica e quindi abbiamo selezionato questo tipo di piante per questo interesse ma poi inoltre dobbiamo selezionare le piante che avessero una forte capacità evapotraspirativa in modo da far evaporare moltissime goccioline d'acqua che potessero raffrescare l'ambiente interno della serra bioclimatica d'estate raffrescando l'ambiente interno della serra bioclimatica immaginavamo anche che si potesse raffrescare l'interno dell'edificio quindi l'ambiente adiacente alla serra bioclimatica. Se vedete questa foto qui la serra bioclimatica è cerchiata in rosso è cerchiata in rosso è questa con questi vetri alla destra di questo cerchio c'è tutta la stanza interna adiacente a questa serra ecco noi abbiamo monitorato tutti i parametri termici e climatici a livello sia della serra che a livello della stanza adiacente a questa serra e quindi tra le piante orticole abbiamo selezionate quelle che notoriamente la letteratura ci diceva che avessero un'elevata efficienza di evapotraspirazione un'altra cosa interessante è che poi questa sperimentazione l'abbiamo anche duplicata sul tetto verde andando a confrontare poi non solo la capacità evapotraspirativa delle piante ma anche il livello di produzione quello che abbiamo appurato è che nell'ambito della serra bioclimatica abbiamo ottenuto senza altro un miglioramento della condizione climatica seppur non troppo elevato perché stiamo parlando comunque in estate nelle giornate più calde comunque si raggiungono temperature elevate pertanto un abbassamento di 2-3 gradi centigradi nell'ambiente della serra non è così significativo lo è di più nell'ambiente adiacente alla serra però abbiamo notato che era possibile aumentare questo beneficio andando ad aggiungere a questi sistemi a queste piante coltivate in semplici vasi a terra un sistema di illuminazione a led che consentisse una maggiore produttività quindi ci ha consentito di ampliare la resa e più che altro di poter chiudere queste le tende le schermature alla radiazione solare della serra bioclimatica la chiusura di queste tende permette di aprire le finestre e di aumentare la ventilazione quindi in parte perché ombreggia in parte perché aumenta la ventilazione con l'inserimento di queste luci a led quindi a basso consumo energetico oltretutto anche alimentate da un piccolo impianto fotovoltaico abbiamo ottenuto un ottimo risultato anche riproducibile e in più abbiamo visto che le stesse condizioni di crescita potevano essere utilizzate con ottimi livelli anche maggiori a livello di resa sul tetto verde in visione appunto di un'esperimentazione su quello che potrebbe essere un orto green roof andiamo adesso in quella che era la seconda parte una seconda caratteristica importante delle coltri vegetali che è una proprietà di tipo radiativo ed è l'albedo l'albedo è una caratteristica che rappresenta è il potere riflettente che corrisponde alla percentuale di radiazione che viene riflessa in tutte le direzioni dalla superficie rispetto al totale della radiazione incidente ed infatti è proprio dato dal rapporto tra la radiazione che viene riflessa dalla superficie rispetto a tutta la radiazione globale che incide su quella superficie per definizione l'albedo è zero quindi è minima quando non vi è frazione di luce riflessa quindi se io ho una superficie nera il cento per cento di radiazione praticamente non ne viene riflessa nulla ne viene riflessa appena in questo caso il dieci per cento però insomma dal punto di vista teorico se ho una superficie nera non ne viene riflessa nulla di questa radiazione se la superficie è alta albedo quindi è bianca ne viene riflessa una grandissima quantità quindi l'albedo è più alta quindi è pari ad uno quando io ho una superficie completamente bianca allora punti importanti da considerare nella sperimentazione con l'albedo sono appunto che un aumento di albedo corrisponde ad una diminuzione della massa di calore del calore antropogenico e del calore presente l'albedo medio nella terra è misurato stimato tra il 0,29 e il 0,31 mentre invece nelle città è 0,10 l'albedo abbiamo visto che ha un rapporto per cui ha un valore che va da 0 a 1 oppure in percentuale insomma dal momento che nelle città abbiamo un 0,1 questo vuol dire che le aree urbane assorbono più luce e si riscaldano di più quindi effettivamente ecco e questo spiega il motivo l'isola di calore urbana l'isola di calore perché assorbe più luce e si riscalda di più una delle cause principali quindi dell'aumento di questa isola di calore in città è proprio l'utilizzo e lo sfruttamento eccessivo di materiali edilizi che abbiano un basso albedo quindi i cementi materiali a basso albedo appunto l'aumento dell'isola di calore tra le altre cose fa aumentare il consumo energetico a livello degli edifici per mantenere un benessere termico consumo energetico che dovuto all'incremento delle emissioni di gas serra introdotte nell'atmosfera facilita ed aumenta l'inquinamento dell'aria è tutto un circolo vizioso in genere le superfici vegetali hanno un albedo variabile la variazione dipende da numerose caratteristiche di tipo genotipico e di tipo ambientale e le variazioni possono andare sono nell'ordine da 0,2 a 0,35 ovviamente il LAI che è la solita la densità di copertura di una superficie l'intensità del verde e le condizioni climatiche sono tra i parametri più importanti che determinano poi l'albedo e vanno a determinare l'albedo ok nell'edilizia urbana le tecnologie le tecnologie per la mitigazione dell'isola di calore prendono in considerazione i tetti questa cosa è abbastanza banale nelle città altamente cementificate abbiamo detto che non c'è spazio per il verde per cui dove andare ad implementare delle tecnologie se non c'è più superficie disponibile ecco la superficie se si possono associare ai tetti i tetti rappresentano in queste città in alcune aree rappresentano fino al 40% della superficie di distretti particolarmente urbanizzati perciò sono una superficie che se sfruttabile consente veramente un buon risultato di mitigazione più recentemente sono state prese in considerazione anche le pareti perché immaginate che le pareti permettono appunto di di ampliare la superficie su cui appunto queste tecnologie di mitigazione possono essere implementate quindi lo scopo è ridurre le temperature superficiali dei tetti dei lastrici solari migliorando il confort termico nei ambienti interni dell'edificio e quindi diminuire anche il flusso di calore verso l'atmosfera le principali tecnologie per la mitigazione della urban in Thailand sono i tetti freddi o i tetti verdi i tetti freddi sono i cool roof sono anche i tetti riflettenti sono i tetti chiari cosa fanno mirano ad aumentare l'albero dei tetti come dicevamo prima un tetto una superficie bianca ha un albero che si avvicina a uno perché praticamente che cosa fa riflette tutta la la radiazione quindi la radiazione non va a scaldare all'interno dell'edificio e poi abbiamo i tetti verdi che è una tecnologia un po' più innovativa tetti verdi che prevedono la sto andando indietro scusatemi prevedono la ricopertura parziale o totale con la vegetazione dei dei tetti allora ma i tetti i tetti bianchi quindi sono andiamo a rivedere la figura i tetti riflettenti includono anche i tetti bianchi i curruf ok e sono una tecnologia molto utilizzata soprattutto in alcune zone climatiche anche molto economica ed hanno hanno un ottimo hanno sicuramente forniscono un ottimo risultato sul raffrescamento delle superfici dei tetti eh tuttavia i tetti verdi hanno qualcosa in più anche rispetto ai tetti bianchi andiamo a vedere che cosa succede se noi andiamo a mettere un un termometro che misuri la temperatura superficiale in un normale lastrico solare io qui l'ho disegnato in nero per dire su un massetto scuro un tetto bianco o un tetto verde quindi io ho tre situazioni ho tre termometri disposti in tre tetti diversi andando a in un pomeriggio di giugno in cui l'aria è più o meno tre trenta e trentatré gradi quello che si misura in una zona climatica simile alla nostra è nel caso di un tetto normale arriviamo a temperature fino a sessanta sessantotto settanta gradi centigradi ed è vero pensate di mettere effettivamente una mano a contatto con l'asfalto si raggiungono temperature elevatissime a livello della superficie di un tetto bianco la temperatura va dai quarantuno ai quarantaquattro gradi in un tetto verde la temperatura va dai trentuno ai trentotto gradi centigradi adesso la cosa particolare è quindi il tetto verde è quello che funziona meglio è strano però perché se noi ci basavamo sull'albedo l'albedo di un tetto bianco era molto più elevato rispetto all'albedo di un tetto verde vi ricordo che l'albedo di un tetto bianco è vicino a uno quello di un tetto verde va da zero due a zero trentacinque che cosa consente al tetto verde di abbassare così la temperatura superficiale di avere un effetto migliore beh questo l'effetto migliore si ottiene con l'evapotraspirazione perché l'evapotraspirazione consente alle piante di di rinfrescare attraverso l'evaporazione dell'acqua e inoltre ci sono altri servizi che vengono offerti dalle piante e che quindi rappresentano un valore aggiunto a questa tecnologia rispetto ai detti bianchi in primis è la cattura della CO2 operata dalle piante per cui la maggiore riduzione di temperatura ottenuta con l'impiego dei tetti verdi è dovuta oltre che alle proprietà radiative soprattutto all'azione rinfrescante delle piante grazie all'evapotraspirazione ok allora sull'albedo in Enea ci stiamo lavorando da qualche anno stiamo monitorando diverse abbiamo monitorato durante diverse stagioni durante diversi periodi anche di diversa lunghezza l'albedo delle superfici a livello dei diversi settori del tetto verde Nenea quindi abbiamo un settore a prato un settore a sedum è un settore con diverse specie per la biodiversità e praticamente nel settore a prato abbiamo anche studiato siamo andati anche a studiare l'effetto dello spessore del prato in termini di altezza cioè un prato appena dopo la sfalciatura fino a un paio di mesi in cui praticamente lo spessore del prato è passato da tre centimetri a a trenta centimetri insomma abbiamo fatto tutta questa serie di analisi e abbiamo ovviamente visto gli effetti delle diverse dei diversi parametri microclimatici misurati integrando integrando le varie curve tra di loro quindi abbiamo abbiamo trovato innumerevoli innumerevoli risultati chiedo scusa qui c'è un un errore non so per questa scritta i composti organici volatili doveva andare in un'altra un'altra slide quindi non non fateci caso a questa scritta qui questa è un caso era una diapositiva per riportarvi brevemente dei risultati sulla sull'attività in era che abbiamo fatto con l'albedo noi abbiamo misurato l'albedo attraverso questo albedometro che è un un doppio piranometro praticamente e è portatile per cui ci ha consentito di fare diverse campagne su diverse superfici questo è solo un esempio di risultato in un periodo poi di quattro giorni in inverno la variazione di albedo nelle diverse nelle graminacee quindi nel prato oppure in due tipi di sedum in due tipi di sedum cioè nello stesso tipo di sedum ma in due in due situazioni diverse quando è rosso e quando è verde in base alla stagione insomma diciamo che quindi questo per farvi capire che da 22 a 18 è una variazione comunque significativa sono tutte variazioni significative dell'albedo tante volte molti lavori abbiamo visto che riportano l'albedo unicamente come unico valore ma invece è un valore sempre fortemente variabile che dipende appunto dalle condizioni di cui parlavamo sopra ovviamente l'albedo rimane un riferimento nel senso che la ricerca deve anche è anche interessata allo studio delle piante degli aspetti del genomici genetici correlati all'albedo di una specie vegetale perché effettivamente sia a livello di tetto verde ma sia a livello di coltivazione la presenza di piante che consentano di ricoprire una superficie con un albedo molto elevata ovviamente aiuta il discorso dell'isola di calore ok la terza parte di cui vi volevo parlare invece erano i composti organici volatili che cosa sono questi composti organici volatili sono tra una classe di inquinanti tra i principali inquinanti insieme al diossido di zolfo all'ammonio e agli ossidi di nitrogeno e anche al particolato e sono moltissimi hanno delle diverse capacità intrinseche caratteristiche intrinseche fisico chimiche diverse e anche l'impatto sull'uomo è molto variabile in alcuni casi abbiamo anche delle i cov includono anche dei composti volatili dei composti scusatemi cancerogeni come il benzene fanno parte dei cancerogeni del gruppo 1 sono composti presenti nell'aria ambiente esterna ma anche nell'aria che rispiriamo all'interno degli edifici in realtà hanno cominciato ad essere presi in considerazione e studiati maggiormente negli ambienti interni proprio perché noi negli ambienti interni passiamo tantissimo tempo l'aria è più viziata e quindi in qualche modo riescono ad essere presenti e persistere a concentrazioni molto elevate quindi in realtà i cov negli ambienti interni sono molto significativi abbiamo cov di origine antropogenica che sono quelli determinati dalle azioni dagli operati umani dovuti all'industrializzazione al traffico veicolare e così via ma anche per esempio negli ambienti interni alle pitture ai solventi ai smalti ai profumi e così via e poi abbiamo anche dei cov di origine biogenica che vengono emessi naturalmente dalle piante e è ovvio che questi cov come tutti gli altri inquinanti abbiano un impatto negativo sugli ecosistemi naturali e quindi diminuiscano la biodiversità noi nella nostra ricerca seppur interessati a diverse categorie di bitex a un certo punto abbiamo dovuto selezionare selezionare un gruppo e abbiamo scelto i bitex che sono il benzene il toluene l'etilbenzene e le tre forme OMPD degli xileni diciamo che sono il gruppo di cov più abbondanti presenti in ambienti in città e sono effettivamente dovuti alla combustione del dovute nelle a seguito di processamenti industriali quindi nelle zone industriali ma anche nelle zone ad elevato traffico come combustione del veicolare e diciamo che appunto costituiscono in queste zone nelle aree urbane oltre il sessanta per cento di tutti i cov presenti tant'è che vengono spesso utilizzati l'ARPA attualmente li utilizza continuamente come riferimento come riferimento di di cov presenti nell'area quindi nonostante sia il gruppo dei cov in generale sia contenga numerosissime specie di numerosissimi elementi monitorando questi cinque elementi abbiamo un'idea di quelli un po' più dannosi e presenti nelle zone inquinate quindi noi abbiamo fatto questo monitoraggio abbiamo iniziato a livello della della scuola delle energie quindi della della casa delle energie in casaccia successivamente ci siamo mossi perché di fatto in casaccia per chi la conosce potrà intuire semplicemente che in realtà si tratta di una situazione di controllo perché insomma siamo immersi nel verde il livello di inquinamento c'è ma non è così forte come potrebbe essere in altri in altre situazioni di maggior stress urbano e quindi abbiamo fatto una quantificazione di questi BITEX abbiamo effettuato dei campionamenti in diverse stagioni su diverse coperture vegetali inizialmente verticali perché inizialmente abbiamo fatto questa sperimentazione a livello di parete verde ma poi siamo andati anche a vedere delle coperture orizzontali quindi dei tetti verdi ci siamo mossi su Roma e abbiamo fatto una valutazione di diverse anche correlandola alle specie vegetali abbiamo utilizzato questi campionatori d'aria radiello che sono poi quelli maggiormente utilizzati per i monitoraggi dell'ARPA sono dei campionatori passivi usa e getta e noi li abbiamo abbiamo campionato ogni volta per la dopo delle prime prove insomma il periodo più adatto ci è sembrato quello di una settimana praticamente all'interno di questa camera vi è una superficie assorbente questo filtro assorbente al quale si legano questi questi cov che vengono raggiungono entrano nel cilindro e una volta che entrano nel cilindro vanno a finire a livello della superficie assorbente e e quindi vengono poi analizzati per disorbimento termico questo ovviamente sono state fatte anche repliche eccetera ma diciamo questo tipo di sperimentazione poi alla fine è molto riproducibile e noi abbiamo fatto ovviamente dei confronti tra parete la parete vegetale nuda quindi un esempio una zona di parete in cui non avevamo vegetazione con la stessa esposizione solare e ovviamente la stessa zona per andare a analizzare la stessa aria e a livello di diverse localizzazioni specifiche della parete quindi al primo piano al secondo piano nel gap vi ho detto precedentemente che la nostra parete è una parete distaccata con una con un gap di 60 cm che separa la vegetazione dal muro paritale insomma e la prima sperimentazione inizialmente condotta in Enea vedeva anche un controllo il controllo l'abbiamo messo in una zona che potesse essere maggiormente trafficata che è l'anguillarese quindi nel cancello lì vicino all'entrata dell'area capanna e i primi campionamenti hanno dato dei risultati comunque interessanti in quanto hanno rispetto al controllo in cui ci aspettavamo una maggior quantità di sostanze inquinanti e così è stato il benzene 1,20 abbiamo notato che allontanandoci dalla zona inquinata quindi andando verso la scuola delle energie il nostro prototipo che è più lontano da eventuali fonti di inquinamento la concentrazione di benzene ad esempio diminuiva e a livello della parete verde quindi all'interno messo tra le foglie della vegetazione era ancora inferiore quindi abbiamo notato un effetto di cattura un effetto di cattura di questi cov da parte della vegetazione insomma e questo è stato ripetuto diverse volte ed è stato fatto poi a livello di diverse situazioni e a Roma è risultato molto più evidente quindi abbiamo selezionato una serie abbiamo avuto modo di verificare delle specie vegetali con potenzialità maggiori per la mitigazione dei cov in città stiamo adesso scrivendo il lavoro e qui vi volevo parlare invece di un altro lavoro recente nel quale abbiamo lavorato insieme soprattutto alla collega Susanna Mariani e praticamente è stato uno studio sulla un'analisi comparativa tra due specie di ecchium l'ecchium vulgare e l'ecchium plantagineum come per capire la loro possibile adattabilità inclusione in tetti verdi urbani in ambiente mediterraneo in pratica nel nord nel nord Europa i tetti verdi che ormai sono una tecnologia definita e ampiamente utilizzata l'ecchium vulgare sembra essere una specie ampiamente utilizzata noi abbiamo fatto una ricerca a Roma in diversi punti di osservazione sia nei parchi al centro di Roma che in zone vicine all'Enea e più nel Viterbese e abbiamo durante le diverse campagne abbiamo effettivamente notato la scarsità della specie vulgare a scapito della specie ecchium plantagineum molto presente abbiamo fatto un'analisi comparativa a partire dalla struttura del seme al tipo di radice di stelo numero di fiori tipo di fiori colore e così via anche per arricchire gli i records gli erbarium records che sono così importanti queste tabelle di dati per soprattutto per la descrizione e la conservazione della biodiversità delle specie e abbiamo effettivamente poi applicando anche uno stress idrico un forte stress idrico indotto siamo andati a vedere la capacità poi di ricopertura del tetto verde da parte di queste specie abbiamo notato che effettivamente la specie ecchium plantagineum che nel nostro caso nelle zone ricercate quindi stiamo parlando di zone nel centro di Roma e comunque vicino Roma nel centro Italia è nelle zone ricercate la specie più più comune rispetto al vulgare che era raro e abbiamo visto che effettivamente aveva un'ottima capacità di ricrescita per cui potrebbe essere incluso tra le specie e tra i miscugli di semi adatti per fare appunto questi detti verdi insieme a questo insomma poi ci sono convenute tutta una serie di studi relativi anche al fatto che si trattasse di piante annuali rispetto a piante con ciclo biennale abbiamo fatto una sorta di una serie di considerazioni rispetto alla manutenzione del verde quindi gli sfalci della gli sfalci del verde potessero essere in qualche modo non molto benefici alla allo sviluppo delle piante biennali insomma è molto interessante questo lavoro e arriviamo a quello che è il lavoro energetico insomma ci tenevo anche ad includere io parlo moltissimo mi dispiace non so forse mi sto allungando tantissimo cerco di essere breve però ecco il risparmio di energia dovuto ottenibile attraverso tetti o pareti verdi abbiamo verificato che il risparmio maggiormente conseguibile è in estate cioè è vero che anche in inverno si ottiene una un isolamento significativo tuttavia a livello poi di risparmio energetico molto più limitato rispetto al risparmio che si ottiene in estate per il condizionamento estivo ecco perché nel nostro clima mediterraneo noi siamo andati a puntare su su quello che è il risparmio energetico che ci consentono queste strutture in quanto ci fanno spegnere i condizionatori o ce li fanno accendere per un tempo inferiore dovuto ad uno uno shift temporale dell'onda calda allora questo è un esempio in questo in questo lavoro in particolare abbiamo focalizzato sulla parete sud-ovest questo è al primo piano dell'edificio in questa parete la grata di di acciaio giallo è la grata attraverso cui è stato fatto crescere il partenocissus quinquefoglia che adesso vedete in questo modo perché è una pianta decidua quindi siamo a marzo in questa in questa immagine quindi anche adesso questa questa zona della parete dove c'è il partenocissus è praticamente spoglia e quindi vedete insomma dove sono localizzati i sensori a livello sia a livello della superficie esterna della parete che poi anche vi sono i sensori all'interno abbiamo il confronto tra parete che abbiamo chiamato parete coperta da vegetazione e parete non coperta da vegetazione che è questa situazione qui queste sono le termocoppie cioè i sensori di temperatura superficiale uno è a livello della superficie esterna della parete e abbiamo un medesimo sensore attaccato all'interno della parete cioè nella parete che dà verso l'interno dell'edificio i primi risultati sotto forma di temperatura superficiale di UF e VF UF sta per unvegetated facade mentre VF è vegetated facade quindi parete verde e parete non verde ok andando a vedere che cosa succede ad esempio a marzo nel 2020 quello nella il verde la linea verde è la temperatura a livello della superficie della parete ricoperta da verde quindi ombreggiata dalla vegetazione e il rosso è la temperatura della superficie della parete in cui non c'è vegetazione ecco sono evidenti i picchi no abbiamo dei delta di temperatura fino a 20 gradi in alcuni momenti questo qui in azzurro sono 26 gradi che noi abbiamo stabilito come convenzionalmente come temperatura di comfort in un ambiente interno quindi diciamo che la parete verde ha consentito il mantenimento della temperatura vicino a quello che è il comfort mentre invece nel caso della parete non vegetata abbiamo avuto dei picchi di calore molto più elevati poi siamo andati a vedere anche i flussi di calore scusate sì i flussi termici i flussi di calore questo è un grafico a doppio asse un grafico a doppio asse in cui a sinistra ho il flusso di calore il flusso di calore viene calcolato a partire dalle temperature superficiali attraverso tutta una serie di formule che non sto qui a descrivere e le temperature superficiali diciamo che da questo grafico è evidente il delta i delta sia di temperatura superficiale che di flusso dovuti appunto al taglio della radiazione cioè la radiazione che entra all'interno dell'edificio è tagliata nettamente di un quantitativo molto significativo ed infatti andando a vedere le temperature superficiali abbiamo un effetto significativo di abbassamento delle temperature diciamo poi abbiamo fatto una stima a un certo punto siamo arrivati ad una stima specifica siamo andati a calcolare a stimare il carico elettrico dovuto alla climatizzazione ad esempio da maggio ad agosto l'abbiamo calcolato come una variazione tra i flussi entranti da maggio ad agosto in continuo e l'energy efficiency ratio l'energy efficiency ratio è un valore correlato ai condizionatori alle varie pompe di calore e ha un valore tecnico che è riportato nelle istruzioni delle guide dei nostri condizionatori quindi otteniamo un risparmio energetico di circa due kilowattora per metro quadro un risparmio energetico conseguito da una parete verde così come è quella che abbiamo in in casaccia rispetto a tutte le condizioni di muratura alle dimensioni della stanza interna e così via risparmio che è stato poi tradotto in quantità di anidride carbonica salvata pari circa ad un chilogrammo di anidride carbonica per metro quadro inoltre abbiamo calcolato un coefficiente verde un fattore verde che è un indice che ci dà il livello di schermatura di un tipo di vegetazione rispetto alla radiazione solare non vado troppo nel dettaglio però mi piaceva farvi vedere questa cosa questi indici KV sono altamente correlabili alla copertura all'AI e alla copertura quindi a livello di densità e di inverdimento della parete vedete che tra il 19 20 e 21 questa è una fotografia presa a luglio della parete nei diversi anni di fatto nel 2020 dovuto al covid abbiamo avuto dei problemi con l'impianto di irrigazione per cui l'inverdimento è stato molto più scarso rispetto al 2019 e effettivamente questi KV riflettono specificamente il livello di inverdimento infatti i valori più bassi di KV li troviamo nel 2020 che vuol dire che la schermatura è inferiore rispetto al 2019 dove ha un massimo di densità di inverdimento per finire diciamo che la nostra ricerca dal punto di vista soprattutto termico ma non solo ha anche lo scopo di definire di facilitare appunto l'accesso a dei benefici fiscali a dei bonus premiali dovuti all'installazione di tetti o pareti verdi in città non solo perché aumentiamo l'efficienza energetica ma anche perché evitiamo delle emissioni di CO2 attenzione che le emissioni di CO2 evitate non sono solamente quelle dovute al fatto che io accendo meno il condizionatore ma sono anche quelle dovute al fatto che non consumando energia evitò ulteriori emissioni quindi diciamo che da questo punto di vista molte attività Enea tendono proprio al monitorato di questi flussi termici per stabilire dei dati che siano di tipo sistematico per andare poi a confrontarsi con i policy makers con il ministero competente per proporre delle possibilità di mettere dei bonus premiali questo è l'unico modo per diffondere una tecnologia cioè soprattutto in Italia stanno prendendo piede adesso ma purtroppo ancora sono situazioni molto elitarie dovute ovviamente non solo ai costi dell'installazione ma poi ci sono anche i costi di manutenzione che non sono pochi insomma l'ultima l'ultima slide in cui sarò molto breve stiamo continuando a lavorare su queste tecnologie attualmente stiamo sviluppando la ricerca stiamo sviluppando un prototipo di tetto blue green i tetti blue green sono dei tetti che oltre ad essere un tetto verde contenendo al di sotto uno strato aggiuntivo di un serbatoio che può contenere l'acqua l'acqua di di eccesso delle irrigazioni funziona da sistema di drenaggio quindi questi tetti blue green da una parte continuano ad assolvere il risparmio energetico infatti sarà un tetto totalmente monitorato per quanto riguarda le temperature superficiali e i flussi termici per consentirci l'analisi energetica e poi sarà un tetto che consentirà il water saving il water saving sia aiutando il drenaggio in città facilitandolo nelle situazioni di impatto complicato di elevata piovosità e sia mantenendo l'acqua e poi poterla utilizzare secondariamente per l'irrigazione del tetto verde cosa utilissima in un ambiente arido d'estate come quello del clima mediterraneo insomma la possibilità di conservare l'acqua e poi ridarla al sistema nel momento del bisogno il tutto grazie ad un sistema IoT di monitoraggio e di una smart valve che mi consente attraverso il monitoraggio continuo del livello di acqua anche del livello di idratazione del suolo e di crescita delle piante di capire e di dare l'acqua al momento del bisogno questo tipo di ricerca ci interessa molto sempre per aiutare la diffusione di queste tecnologie che ci piacciono moltissimo perché hanno tutta una serie di aspetti di interesse per migliorare la qualità della vita in città oltre al fatto che poi indiscutibilmente aumentano la bellezza dei posti dove viviamo con effetti benefici sull'umore e sul resto oltre questo stiamo anche valutando la possibilità di studiare insieme ai tetti verdi il vantaggio dell'applicazione di sistemi fotovoltaici e pensare a delle soluzioni di tetti orti fotovoltaici quindi unire la possibilità di generare energia rinnovabile di ottenere energia rinnovabile e produrre più cibo mantenendo i benefici dei dei tetti verdi io ci tengo a precisare forse mi è sfuggito prima che questa ricerca è frutto di innanzitutto della delle guide dell'esperienza della passione di Carlo Alberto che dovrebbe seguirci e un gruppo di lavoro ampissimo che ha visto come protagonista senz'altro Germina Gianniacovo anche Rita di Bonito Susanna Mariani Maria Sperandei tutte persone che ci mancano tantissimo devo dire a me personalmente mi sento tristissima loro sono tutti felicemente in pensione da circa uno due anni poi c'è Patrizia De Rossi la dottoressa De Rossi che è la cara collega con la quale adesso portiamo avanti la maggior parte delle attività Lorenzo Gatti si è appena dottorato con un ottimo risultato in una tesi in collaborazione alla truscia e dottor l'ingegnere Puglisi che è il coordinatore della ricerca di sistema che ci ha sempre sostenuto e dato ottimi consigli per per svolgere queste attività diverse sono le collaborazioni che non non mi sono messa a citare qui ho inserito però senz'altro l'università di Pisa con Carlo Bibbiani e l'università di Viterbo con Rosario Muleo perché sono la sono sicuramente i più le collaborazioni più importanti ok e qui c'è la mia email per informazioni domande eccetera diciamo ci conosciamo la maggior parte di noi e spero di non avervi annoiato anzi magari di avervi testato interesse su queste su queste soluzioni che di fatto sono veramente stanno veramente prendendo piedi ecco perché hanno hanno tantissimi vantaggi in un'unica soluzione questo è indiscutibile ok Arianna grazie il seminario è stato molto bello e si è riuscita a capire delle cose che per chi non ci lavora e per chi non è dentro veramente anche piuttosto complicate e anche il vantaggio che si può creare diciamo studiando queste applicazioni cioè la biologia se vuoi applicata a livello tecnologico proprio per un risparmio energetico per un ambiente più sostenibile quindi sei stata veramente bravissima non ci hai annoiato affatto non so se qualcuno vuole fare delle domande se Giuseppina vuole scrivere visto che non riesce a parlare io ce l'ho una domanda cioè non una vai Anna Maria fai quelle domande che vuoi innanzitutto volevo ringraziare di questo webinar che è stato interessantissimo almeno per me mi farebbe piacere perché la lista di domande sarebbe molto lunga quindi mi piacerebbe piacere rimanere in contatto visto che mi occupo dal punto di vista lavorativo proprio di sostenibilità legata alle attività spaziali infatti lei ha citato prima l'IoT l'IoT è uno degli esempi che noi sviluppiamo proprio nella parte dei sistemi spaziali che riguardano le telecomunicazioni e su questo inciderà sicuramente anche la parte di osservazione della Terra e penso ormai anche i giardini verticali sono cose che si stanno promuovendo sempre di più devono rientrare nell'utilizzo comune e questa è la cosa importante perché finché non prende piede questo rimane sempre a livello di ricerca questa è un po' la mia idea è quello sul quale sto lavorando proprio sulla connessione fra una green economy e la sostenibilità con il supporto di dati spaziali sì quindi non lo so tramite moltissimi legami come no come no veramente volentieri certo assolutamente sì Giuseppina non so volevi dire qualcosa vuoi scrivercelo sentite ora sì fantastico no beh è stato interessantissimo alcune cose le sapevo ma insomma non sapevo nel dettaglio quindi è stato veramente interessante no no io non ho domande particolari comunque è grazie grazie ad Arianna che ha accettato di fare questo seminario grazie grazie Giuseppina due parole due parole vai io voglio solo ringraziare Arianna perché vedo che insomma le cose sono andate molto più avanti per cui io sono veramente contento speriamo che stiamo cercando di fare del nostro meglio per per portare avanti queste attività che effettivamente sono sono molto interessanti insomma ci ci proviamo cerca di combattere insomma facciamo le guerre in terra faccio tanti auguri davvero una cosa tra quelli che hanno partecipato hai dimenticato Matteo oh signore sì Matteo Matteo Scoccianti come no in realtà in realtà ora che stavo pensando anche Luciano Consorti eh vabbè d'accordo però da qualche parte sono inseriti nelle pubblicazioni sì devo dire ho inserito quelli i più importanti ma ce ne sono stati tanti Matteo Matteo purtroppo non lavora con noi già da da diversi anni ecco perché mi ha sfuggito e speriamo che lavorerà con noi da qualche anno eh ce lo ce lo auguriamo ce lo auguriamo vabbè comunque bravissima grazie comunque Arianna questo essendo un seminario divulgativo non diciamo un seminario rivolto a una platea scientifica quindi anche se ti sei dimenticata qualcuno eh ok ok sì sì no ma infatti io ero un po' combattuta dico ma vanno un po' più nel dettaglio ci posso andare oppure no magari dopo eh perché effettivamente la platea è sempre va sempre presa in considerazione prima di questo è un progetto divulgativo per persone varie ma comunque si capiva tutto benissimo sì sì si è stata comunque molto chiara molto precisa e dettagliata e chiara e non so voglio chiedere se grazie a qualche domanda se qualcun altro ha qualche curiosità mi sentite sono Maria sì grazie io ho rifatto un salto nel mio più recente passato perché chiaramente io non ho lavorato per quanto abbia messo diciamo nell'elenco sono molto contenta però io ho lavorato molto poco rispetto a tutti gli altri a Germina a Susanna chiaramente e a lei su queste tematiche quindi mi ha fatto piacere vedo adesso anche leggendo sui giornali di vario tipo che sicuramente stanno prendendo piede molto di più rispetto a prima certo c'è sempre il problema che Arianna ha già ha detto che sono sistemi chiaramente costano sia in termini di strutture da fare e poi di mantenimento del tutto quindi effettivamente ci sorbirebbe che visto tutti i bonus che vengono dati in varia maniera non so non credo che quelli che danno per i giardini poi no perché in alcuni casi danno i sporti bonus per i giardini ma non credo che coprino anche queste cose no Arianna ma il bonus verde è solo per i giardini è quel 30% 35 36 sono una cifra minima 1500 euro in 10 anni insomma quindi non c'è niente di questo tipo nemmeno nel PNRR ci sta nulla non ancora guarda ci stiamo nemmeno non ci sta nulla ci sta il fatto effettivamente in alcuni casi si può pensare al conto termico ma bisogna fare proprio una proposta progettuale specifica quindi non è una detrazione fiscale immediata e accolta però ovviamente se tu valuti che hai un avanzamento di efficienza energetica da così a POMI attraverso un progetto un ricercatore che te l'assevera eccetera eccetera dovresti avere almeno il diritto al 65% del risparmio per l'efficienza energetica quello è possibile ma l'ottenimento è complicato insomma bisogna fare proprio cioè noi abbiamo delle richieste di questo tipo ma si instaurano dei contratti dei contratti di tot 1000 euro per questo lavoro di durata biennale triennale per quindi il PNRR su queste tematiche non ci hanno messo niente al momento che io sappia c'è di tutto di più capito io non l'ho letta nel dettaglio alcune cose l'ho letta specificamente non c'è però devo dire la verità che arrivano continuamente richieste di supporto in Enea nel nostro dipartimento sono molto interessati diversi approcciano questa cosa si capisce da quello che uno legge dai giornali dalle cose così si si infila sempre ma anche proprio nella normalità della vita di tutti i giorni insomma nel miglioramento della qualità della sostenibilità in generale si capisce che su questi temi sicuramente c'è un interesse maggiore rispetto a quello che c'era che ne so diciamo che ecco non è soltanto efficienza energetica ma c'è anche tutto l'aspetto ambientale eh anche umano collegato anche esterico eccetera che che fa molto insomma è un valore aggiunto no? ma scusami una domanda scusate se mi intrometto ma questi progetti di cui hai parlato noi abbiamo un assessore all'ambiente donna che è Sabrina Alfonsi che è molto molto complimenti io ho ascoltato tanto da tra virgolette non addette ai lavori ma abbiamo bisogno però noi di capire come si parla di quotidianità come rendere più vivibile il nostro pianeta anche da chi non è proprio del settore quindi è educativo quindi ti ringrazio ma parlando proprio di concretezza ma questi progetti avete mai pensato di presentarli anche alla nostra assessora all'ambiente Sabrina Alfonsi che è molto molto sensibile per quello che sono queste tematiche come si diceva non ci sono i fondi PNNR ancora e allora bussiamo alla porta può darsi che con dei progetti validi lei è molto ripeto è molto sensibile a ciò non so se avete già pensato una cosa del genere ti dico la verità non ci abbiamo pensato grazie mille del suggerimento e vale la pena pensarsi insomma ci sentiamo senz'altro il discorso un pochino è in questo momento siamo in pochi perché ecco il pezzo grossi i pezzi grossi che ripeto Carlo Alberto Germina Susanna Rita Maria sono sono felicemente in pensione si si sono tutti giovani con l'expertise di questo tipo siamo rimasti in pochi insomma io devo andare via visto che sto così felice me ne vado eh quindi di fatto il tempo disponibile noi siamo veramente ciao grazie ciao 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 veramente siamo un po' posso inserirmi solo scusate se intervengo però posso il fatto che siete di meno non vuol dire che non si può fare un progetto coinvolgendo anche qualcuno che è andato in pensione sono progetti no allora io Maria sei invitata eh siccome io è solo da due mesi che sono in pensione e ancora non mi sono adattata comunque a me farebbe grazie a me farebbe veramente molto piacere guarda adesso attraverso Patrizia ci scambieremo ci lasciamo assolutamente il contatto guardo la mail proprio il telefono di Sabrina Fozzi se vuoi magari magari ti posso garantire che è venuta in Fitapa eh su Urban Food eh quando era presidente Bettina Giordani quindi prima del mio insediamento ma su queste tematiche eh di una sensibilità estrema che vi permetto di consigliartelo e lei adesso che ha preso purtroppo degli assessorati eh difficili eh però continua la sua battaglia verso il green a tutto tondo quindi perché a Roma ne abbiamo proprio un maggior bisogno cioè adesso queste tecnologie se per Milano e il Nord Italia vogliono eh vogliono quasi superare il Nord Europa perché stanno veramente mostrati interessi guardi il suo profilo anche pubblico nel senso ti rendi conto che è proprio combattiva guarda anche ha iniziato in tempi non sospetti veramente una grande battaglia e continua a farla anche nel suo piccolo avendo poco tempo per perché ha due assessorati un po' difficili però continua a farlo quindi eh ottimo suggerimento grazie grazie assicurati sì 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 scusate che posso Anna Maria voleva dire una cosa aspettate un attimo che vi parlai tutti insieme Anna Maria c'era lei adesso allora io volevo semplicemente introdurre un chiarimento perché una cosa sono le detrazioni fiscali e quelle sono degli atti politici quindi è da rivolgersi più che altro alla sensibilizzazione del mondo politico altro è il PNRR nel PNRR ci sono tantissimi stanziamenti per quanto riguarda la sostenibilità quindi questo significa però a ragione non mi ricordo il nome della nostra rielettrice Arianna Arianna che non sono degli stanziamenti per una operatività ma sicuramente sono stanziamenti per la parte di ricerca e perché no si potrebbe pensare un discorso anche di commercializzazione di un prodotto da rendere fruibile su un intero territorio nazionale tra l'altro alcuni esempi sono già partiti stranamente dal nord che sono partiti da Milano proprio sugli orti sui terrazzi sui giardini esatto gli orti cittadini e anche tutta la parte sviluppata in verde sulle pareti dei palazzi quindi io penso che andrebbe indagato però mi sembra strano perché Nea l'ho visto abbastanza presente anche sul PNRR dovreste un po' scorrere perché il PNRR è un documento immenso veramente io gli ho dato una sguarda un po' a tutto è veramente anche duro da digerire però ti dà un respiro a livello nazionale su dei fonti che potreste utilizzare visto che c'è già un precedente di qualcosa che avete già sviluppato quindi è un andare avanti su un affinamento e commercializzazione quindi renderlo più fribile anche ai vari utenti nazionali invece è ottimo il suggerimento di grazia ma quello si muove sulla scala metropolitana quindi con dei fondi molto più ridotti quindi io non abbonderei entrambe le strade questo come suggerimento certo poi per dire non solo le pareti ma anche i gruppi di ricerca questi soldi potrebbero anche servire per pagare delle borse di studio dei dottorati esatto è contemplato Patrizia nell'interno del PNRR e poi perché Elenia sta partecipando con tantissimi progetti lo so però diciamo sperando che riescano a entrare in un filone diciamo adatto a questa tematica potrebbero benissimo chiedere diciamo dei finanziamenti per aumentare la loro massa critica soprattutto finanziando borse per i giovani ma adesso ci saranno diversi i modi di assumere eh certo gli assegni sarà più complicato e credo che costaranno parecchio di più eh quello sì lo credo parecchio di più perché hanno modificato da questo dal 2023 infatti quelle che stanno facendo all'Enea credo che siano quelle del 2022 perché se no eh non lo so questo comunque sì è vero è vero è piuttosto complicato e comunque non so se ci sono altre domande se no salutiamo tutti quanti la relatrice ci sono altri ma andiamo a cena e andiamo a cena grazie ancora grazie di tutto grazie veramente è stato molto interessante veramente un piacere ciao 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 Cristina Susanna grazie ciao ciao grazie e ci terremo in contatto poi la contatterò tramite Patrizia assolutamente sì grazie grazie a tutti ciao Anna Maria dobbiamo stoppare la registrazione lo faccio io lo fai tu Anna Maria ci sentiamo ciao a tutti grazie